Il PD mette puntini sulle I. L'analisi del voto l'indomani del rinnovo del Consiglio Provinciale dell'Aquila arriva da segretario provinciale Mario Mazzetti, che non usa a mezzo i termini per rimarcare come Angelo Caruso non è il presidente di tutti. Al nuovo presidente della provincia, a cui auguriamo i migliori auguri per il difficilissimo compito che dovrà svolgere, facciamo notare che l'appoggio incondizionato tra i riferimenti politici regionali e dei sindaci delle città principali non gli ha permesso di essere riconosciuto come il presidente di tutti e che il dato clamoroso delle schede bianche pari al 32% dei voti è un segnale da non sottovalutare, rileva Mazzetti. Poi arriva il dato politico. Il centro-sinistra ha dimostrato che nonostante le recenti sconfitte elettorali avrebbe potuto vincere le elezioni provinciali se fosse rimasto unito e coeso. Numeri alla mano se alcuni consiglieri della maggioranza regionale avessero dimostrato maggiore coerenza politica nei confronti della loro appartenenza, il risultato sarebbe stato ben diverso. Tuona è segretario provinciale del PD che assegna i meriti del risultato all'apporto sostanziale che il gruppo consigliare di minoranza di centro-sinistra dell'Aquila ha garantito e alla capacità dei nostri candidati di essere presenti in tutti i consigli comunali della provincia. Non va sottovalutata la forte spinta politica che la Valle Peline e l'Alto Sangro hanno saputo mettere in campo.